contenuto nell'acunito ho letto che l'acunitina è un alcaloide contenuto nell'acunito che uno dei più potenti veleni conosciuti la dose mortale di pochissimi milligrammi come mai in una realtà che va sempre per il meglio esistono queste creature che sono anti vita commento perché queste creature esprimono le prime forme del mondo vegetale e come tali ne vivono i primi stadi evolutivi le piante medicinali esprimono invece gli ultimi stadi evolutivi del mondo vegetale